buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi oggi è finita la partita appena terminata la partita al serio all'arena di sacca tanzaro dove abbiamo strappato un pareggio e niente io lo faccio breve bravi ragazzi bravi tutti bravo in zaghi niente da niente a dire purtroppo siamo stati sfortunati ancora insiste la sfortuna ma oggi è stata una cosa veramente imbarazzante al di là del del rigore ma questa arbitro sabito una cosa partita imbarazzante altrettanto che imbarazzante comunque lasciamo perdere questo discorso oggi abbiamo avuto no sfortuna io non so come chiamare la maledizione del gol questo è la maledizione della rete non voleva entrare e non è entrata abbiamo stradominato il primo tempo abbiamo stradominato il secondo tempo ma non c'è stato niente da fare non è voluta entrare in porta alla palla per varie varie fortune la parte del catanzaro per varie varie fortune non hanno fatto un tiro in porta non siamo riusciti a concretizzare niente peccato perché potevamo allungare sassuolo spezzi e invece niente così giocare il calcio e questo oggi non è voluto entrare la maledizione del gol questo commentate sotto mi raccomando spollisciate se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale mi raccomando commentate perché questi commenti sono importanti per me quindi io vi prego di commentare insomma la maledizione del gol non c'è niente da fare speriamo a cremona di strappare una vittoria difficilissimo però mai dire mai se magari finisce questa maledizione la maledizione del gol e l'ho chiamata questo è vabbè io per questo video mi fermo qua non voglio aggiungere altro perché insomma alla fine ragazzi sono comportati tutti egregiamente bene tour e bene anche malaccare tutti le sostituzioni ragazzi hanno provato in tutti i modi possibili ma quando dice no e no c niente da fare la maledizione del gol bene io con questo vi saluto e vi rimando alla prossima mi raccomando commentate e io vi ricordo una cosa il pisaresta e tutto il resto passa alla prossima